Primo piano industriale per la società aeroportuale Saga. Era prevista per oggi infatti la seduta con i consiglieri di amministrazione per l'approvazione del documento che detterà punto per punto ogni azione da mettere in campo fino al prossimo 2020. Voglio sottolineare che questa è una società che non aveva mai avuto fino all'anno scorso un suo piano industriale. Se è solo dato, ha comportato anche l'impegno a doverlo monitorare frequentemente perché la mancanza di esperienza implica che da un monitoraggio poi continuativo si possano anche apportare i miglioramenti allo stesso piano industriale. Questa è la regione per cui oggi si va a un aggiornamento di questo importantissimo strumento di pianificazione e a tempo stesso di governance razionale efficace della stessa società. I principali contenuti sono che la definizione temporale del piano industriale con questo aggiornamento viene steso all'intera durata del periodo di concessione e quindi al 2038 e al tempo stesso per necessità relativamente alla consapevolezza alla possibilità di incisione protempore di chi ha responsabilità, il piano industriale viene anche definito nel medio periodo e cioè sulla lunghezza d'onda del 2020 con dettagli adeguati per prendere decisioni di giorno in giorno, di settimana in settimana, di mese in mese. Da punto di vista dei contenuti voglio sottolineare che con questo strumento finalmente si dimostra che l'aeroporto internazionale di Abruzzo a partire dal medio periodo può contare sulle proprie gambe e quindi dimostra che la propria mission d'impresa è autosostenibile.